Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecné Dire Monitor Italia sulla fiducia nel governo Meloni. Vediamo che in questo caso rispetto alla settimana passata chi risponde di non sapere se avere fiducia o no è il 7,4% in diminuzione dello 0,2. Chi risponde di avere fiducia è in calo dello 0,4 al 42,4%, mentre la maggioranza in crescita dello 0,6 che è anche la maggioranza assoluta in questo caso, il 50,2% dice di non avere fiducia nel governo di Giorgia Meloni del centrodestra. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.